Nel frattempo la notizia di Kamada era uscita anche in Germania, stavo al telefono e non ho sentito nulla di quello che avete detto. Vi posso confermare, grazie anche al lavoro di Gianluca Di Marzzi e di Attila da redazione, che Kamada il Milan ce l'ha praticamente in pugno. Perché il giocatore ha dato l'ok al trasferimento, anche il Milan si è convinto di poter chiudere questo... Chiede un miracolo, riusciamo a trovare due cose di Kamada... È un buon giocatore, l'abbiamo visto. Sì, l'abbiamo visto, ma se riusciamo a trovare due gol, due cose da dare così in passo ai nostri tifosi a casa... È un trequartista, può giocare anche a Mezzala, a 26 anni, viene a parametro zero. È un trequartista, sì, non è la seconda punta, è il centrocampista in inserimento, no? Ci deve fare l'interno, scusa ancora l'interno. Però è proprio il tipo di trequartista che serve... Almeno, almeno. È quel tipo di trequartista lì, no?